Salve a tutti, io sono Antonio e sono uno dei quattro fondatori del terreno. Il primo prodotto che abbiamo creato è questa lampada, si chiama 01 Lamp ed è una lampada in cartone a led da tavolo e quando la potrete comprare vi arriverà a casa in questa comoda valigetta dove dentro c'è già il cartone fustellato, dovete semplicemente estrarre la sagoma, piegare e incastrare e avrete la vostra lampada. Ma non solo, si chiama Fattelo anche perché ha una seconda anima ed è l'anima open source. Infatti voi potete farvi questa stessa lampada da un cartone della pizza scaricando la sagoma dal nostro sito internet www.fattelo.com. Vi resterà solamente da scegliere la vostra sorgente luminosa che potete comprare nei negozi di elettronica e potrete farvi la vostra lampada. Molte persone ci hanno chiesto di poter comprare questa lampada, noi potevamo fondare la nostra società e cominciare a venderla, ma Fattelo non è solo un brand è anche un progetto, quindi ciò che vogliamo fare è cambiare lo status quo delle cose e il modo di fare impresa. Per cui dalla metà del mese di ottobre Fattelo sarà su Eppela con il suo progetto di crowdfunding. In pratica voi potrete preordinare le lampade con una donazione e i soldi che ricaveremo serviranno per fondare una società semplificata e responsabilità limitata, che ha costi molto contenuti ed è sostenibile all'interno di un progetto di crowdfunding. L'obiettivo non è solamente quello di fondare la società, ma è anche dare una spinta al crowdfunding in Italia. Per cui alla fine del progetto noi comunque creeremo, sia che il progetto vada bene o che vada male, creeremo un report dove spiegheremo cosa avremo fatto e daremo dei consigli alle persone che vorranno affrontare un progetto di crowdfunding. Il passo successivo sarà quello di creare la community dove le persone possono collaborare allo sviluppo di progetti, non solo alla lampada ma anche altri prodotti che usciranno e che vorranno proporre. Il passo finale sarà quello di creare un marketplace dove tramite un sistema di rating le lampade più votate, le personalizzazioni più votate potranno appunto accedere al marketplace e andare in vendita ad un prezzo maggiorato. Questa maggiorazione rappresenta la royalty per il grafico e per il designer e l'obiettivo di questa azione è quella di evitare tutti i passaggi intermedi che solitamente rubano soldi sia ai grafici che alle imprese. Quindi se volete seguirci venite sul nostro sito www.fattero.com, su facebook o su twitter o iscrivetevi alla nostra newsletter e non dimenticatevi di venire a trovarci su Eppela dalla metà del mese. Grazie.